Abbiamo parlato male fino a questo momento di Emily Granieri con Mirko Meloni Vero, vero, lui è il grande DJ e io purtroppo non so parlare al microfono, quindi avete fatto bene Senti, tu sai che siamo venuti appositamente questa sera proprio per te e per Mirko ovviamente Onorato per la collaborazione che c'è stata con voi a Donne e Motori che dal prossimo anno potremmo già svelare una sorpresa, si chiamerà lo Show dei Motori che rifaremo insomma il 26, 27, 28 maggio 2017 Sicuramente anche voi sarete tra noi, quindi è un'occasione per testimoniare il nostro matrimonio Senti Emily, con te c'è il tuo socio, definiamolo così, Gianluca è sempre al tuo fianco Ciao Gianluca Buonasera, buonasera a tutti Serata questa di San Giovanni Profiamma come al solito alla grande Alla grande, veramente, divina, proprio buon cibo, bella musica, veramente bene Grande vocalist Grande vocalist Senti ma stare al fianco di Emily Non aggiungo altro quello che vorrei dire No, è un'impresa grandiosa Alla grande proprio Allora io ne approfitto Emily per ricordare Gianluca Per ricordare che quei giorni di Donne Motori, l'abbiamo detto con Mirko prima Grande imprenditore Emily, grande organizzatore, grandi DJ, grandi di tutto A stare dietro a te è veramente difficile perché è stato difficilissimo anche per noi poter parlare con Emily Ma io chiedo scusa con tanti amici miei, soprattutto ho chiesto scusa perché capisco che abbiamo passato un momento difficile e delicato e quindi le persone che ritenevo più vicine a me sono state quelle che dovevano capire il momento Quindi ho chiesto immediatamente dopo ho chiesto subito scusa ma purtroppo un evento simile e grande così ha indotto a questo D'altro canto io sono circondato dai miei collaboratori che oltre a questo sono amici e come vedete è restata un'amicizia che va al di fuori degli eventi e va al di fuori delle serate Quindi questa è la cosa che è l'auspicio che tutti sulla vita dovrebbero puntare ad avere Quindi questo, prima un amico e poi un collaboratore, se poi è un amico o collaboratore credo che ha fatto 13 Le tue parole sono sempre di insegnamento, comunque almeno non era un rimprovero, era per significare semplicemente il grande impegno che avevi in quei giorni, in quel periodo, i giorni precedenti e in particolar modo quei tre giorni che ti hanno veramente dato una tre giorni massacrante Emily, solo per questo Ti racconto velocissimamente un aneddoto, il giorno prima dell'apertura fiera il presidente Bogliari, vedendomi non so da dove, dalle telecamere o da dove non lo so Mi ha chiamato in ufficio, mi ha spento il telefono e mi ha detto adesso ti siedi qui, la tua fiera è finita, pensa all'edizione successiva, sei stato bravissimo, siamo orgogliosi di te Quindi evidentemente anche il presidente, persona che stimo, ha visto veramente un mio momento molto molto difficile e delicato Però fino a che accadono queste cose, sempre ben accette e benvenute perché vuol dire che le persone che ci circondano sono all'interno della nostra famiglia Gianluca, e coinvolgo te che ne sai più di lui forse, edizione 2017, quando? Ancora... Spessante questa domanda Stiamo vedendo, stiamo dietro le quinta ancora, ancora non... Possiamo anche svelare, eh? Possiamo svelare No, no, no Lo facciamo dire a Gianluca? No, no, no Lo facciamo dire a Gianluca? No, no, no Gianluca che sei... E sei timoroso? 26, 27, 28 maggio 2017, lo show dei motori continua all'Umbria Fiera di Basteombra Ora cominciamo a mettere la Lucandina fin da ora, nelle nostre testate La stiamo facendo proprio in questi giorni, appena ce l'avremo sicuramente sì Sei un grande come al solito, ovviamente non ci lasciate perché con lui, con Mirko, con tutti gli amici Stiamo per andare ad addentrarci nella console che è proprio qui del disco Roccia Grande serata O Roccia Disco Grande serata, Roccia Disco Questa sera, peccato i DJ che purtroppo ogni tanto però recupereremo con la voce Guarda, in pochi istanti dal tavolo là l'abbiamo trovato alle spalle del nostro Andrea Perfetto amici, ci sentiamo fra qualche minuto